sabato 10 febbraio prenderà il via il nuovo corso organizzato da centrale fotografia come verrà strutturato e a chi è rivolto faremo degli incontri abbastanza concentrati il sabato mattina di tre ore e lo faremo ogni 15 giorni questo per dare la possibilità anche di esercitarsi e portare a termine dei progetti a casa è aperto a tutti ma in particolare a coloro che l'immagine la pensano magari vogliono costruire anche un progetto e per questo necessitano anche di una attività di post produzione dell'immagine tra l'altro colui che dirigerà questo progetto è un videomaker di grande esperienza che ha lavorato anche all'estero in particolare in marocco si chiama lorenzo babbi e ha la capacità in qualche modo di realizzare con la post produzione delle atmosfere che sono molto vicine alle proprie idee ci sono delle prescrizioni particolari necessario portare con sé qualcosa è necessario avere delle macchine fotografiche e quindi fotografare in formato rove che è un formato grezzo per dare la possibilità poi di utilizzare i programmi lightroom e photoshop proprio per avere un controllo totale dell'immagine ed essere espressivi in che modo e fino a quando è possibile scriversi potete naturalmente scrivere a info chiocciola centrale fotografia.com oppure chiamare al numero di centrale fotografia e iscrivervi siccome è un progetto molto interattivo è a numero chiuso quindi ecco a chi interessa chiedo di essere veloci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti